Ciao, sono Giulia. In questo video parliamo di colori acrilici. Metterò a confronto due serie di acrilici fini, i Lefranc Bourgeois e i Liquitex Basics. Li utilizzerò per creare delle illustrazioni ispirate a due grandi artisti. Iniziamo! Prima di parlare dei colori, ti mostro quali sono gli altri materiali che ho utilizzato. Come supporto ho scelto un album Liquitex Basics che imita la superficie della tela. Gli acrilici possono essere utilizzati su diversi materiali come tela, cartoni telati, legno o cartone. In questi ultimi due casi ti consiglio di preparare il fondo con del gesso acrilico. Userò dei pennelli della gamma Basics in varie forme e dimensioni. A mandorla, piatto corto, piatto lungo e tondo. Questi pennelli sintetici sono morbidi e mi permettono una stesura facile e uniforme. Se preferisci una pittura materica puoi usare delle spatole. Per miscelare i colori userò una tavolozza in plastica Liquitex. La gamma dei colori acrilici fini Le Franc Bourgeois è composta da 50 tinte, tutte prodotte in Francia. Sono colori di qualità sicuri e affidabili. Iniziamo subito con degli swatch. Bianco di titanio, blu primario, Bruno Van Dyck, giallo di Napoli, ocra rosa, rosso vermiglione. Devi sapere che dei 50 colori acrilici Le Franc Bourgeois, 23 di questi sono monopigmento, il che offre una miscelazione più pura ed efficace. La vernice è densa e facile da stendere. Già con la prima pennellata ho tenuto un effetto molto coprente. I colori della serie fini sono colori di qualità superiore rispetto alla fascia studio. Le gamme presentano solitamente un numero più ampio di tinte disponibili e sono pensati e formulati per utilizzatori che vanno dal semplice appassionato o al professionista. Sono materiali sicuri e affidabili e dal costo contenuto. La resa è satinata e il risultato è omogeneo e uniforme. Ora provo gli acrilici fini Liquitex Basics. I colori che ho scelto sono bianco di titanio, blu primario, giallo primario, magenta e quinacridone, nero di marte, pergamena. Nella gamma Basics trovi in totale 72 tinte e 20 di queste sono monopigmento. Le acrilici hanno una densità e una viscosità media, quindi si adattano a diversi tipi di lavorazione. La gamma cromatica è molto interessante e richiama la tradizione americana del colore. Ho preparato un bozzetto a matita come traccia. È possibile che durante la lavorazione modificherò un po' il disegno. Parto riempiendo questa forma con il giallo di Napoli, un colore caldo e versatile. Il colore si stende in modo morbido e la consistenza del materiale è molto piacevole da lavorare. Per lo sfondo invece ho scelto un ocra rosa, una tinta calda e morbida dall'uso versatile. È un colore molto coprente ed è ideale per esempio per dipingere l'incarnato. Per questi elementi a forma di foglia uso il rosso vermiglione, una tinta rosso brillante che tende all'arancione. Lo trovo molto interessante. Questo è un colore monopigmento, ideale insieme al bianco e al nero per imitare il colore carnicino della pelle. Per dare un po' di contrasto stendo del Bruno Van Dyck, una tinta bruna molto scura e coprente che tende al nero. Ha un sottotono particolare che tende al violetto. Ti consiglio di provarlo in sostituzione del nero. Il risultato sarà morbido e vibrante. Miscelato con una tonalità come per esempio il carminio da lizzarina, puoi ottenere dei toni di rosso intensi e profondi. Per le altre foglie uso il blu primario e creo un verde pastello miscelando blu primario e giallo di Napoli. Ottengo una tinta delicata. L'illustrazione che ho realizzato era ispirata all'universo di Matisse. Ho scelto questo artista per sottolineare la tradizione pittorica a cui appartiene il marchio Le Franc Bourgeois. Anche per questa illustrazione parto da un disegno. Lo stile è più moderno e ispirato ai lavori di un artista americano. Ti dirò dopo di chi si tratta. Parto dipingendo lo sfondo con il colore pergamena. Una tinta fredda e luminosa a base di bianco di titanio. È molto coprente e interessante. Perfetta come base per diverse lavorazioni, dal ritratto al paesaggio. Per le figure uso il magenta quina gridone. È una tinta intensa, semitrasparente, monopigmento. È un rosso che tende al viola. Al suo massimo grado di saturazione è un rubino profondo. Invece se steso sottile o a velatura ha una luminosità intensa. Siccome è un colore semitrasparente, per ottenere una stesura coprente bisogna passare un secondo strato. Fa' attenzione che lo strato sotto sia completamente asciutto prima di passare a quello successivo. Per la lampadina miscelo il giallo primario con il bianco. Per il cielo invece ottengo un azzurro miscelando blu primario e bianco di titanio. Quando miscelo il colore faccio attenzione a non mescolare. Cerco invece di schiacciare l'acrilico con il pennello, dall'alto verso il basso. Uso pochissima acqua, solo per inumidire il pennello. In questo modo il colore è stabile e la resa è più intensa e brillante. È arrivato il momento di fare le linee nere. Uso un pennello a mandorla e un pennello tondo per essere più precisa. Sto usando il nero di Marte che è molto coprente. Penso che hai capito qual era l'artista di cui parlavo. Si tratta di Kit Haring. L'ho scelto perché la gamma Liquidex Basics rimanda alla tradizione americana del colore. In particolar modo per quanto riguarda la street art e le opere più moderne. Ecco le due illustrazioni a confronto. Puoi vedere che per entrambe ho scelto dei colori molto particolari e che il risultato è molto diverso tra loro. Cosa ne penso di questi acrilici? La differenza tra queste due gambe non sta tanto nella resa finale, ma piuttosto nelle selezioni cromatiche che ogni serie propone. Dal punto di vista qualitativo e della lavorabilità, le due gambe sono piuttosto equivalenti. Sono tutte e due gambe formulate con pigmenti fini di alta qualità. Garantiscono dei parametri di stabilità, permanenza, immediatezza e facilità di lavorazione molto elevate per tutti i livelli di utilizzo. La scelta sarà quindi dettata da quali colori ti ispirano di più, secondo i tuoi gusti e il tuo stile. Se questo video ti è piaciuto fammelo sapere nei commenti. E non dimenticare di mettere like e iscriverti al canale. Ciao! Ciao!